Manuel Pantalone, presidente del Kivanis Club di Chieti, parliamo di un'iniziativa importante che ci sarà domenica, di cosa si tratta? Allora noi come Kivanis Young Professional Chieti Teate ci accingiamo a ricevere la charter questa domenica ore 18 all'Est Hotel a San Giovanni Teatino e come Kivanis Club Young Professional Chieti Teate ci prefiggiamo l'obiettivo con una serie di attività che partiranno subito dopo la cerimonia di questa domenica dicevo ci attiveremo per rispondere alle esigenze dei bisognosi e specialmente dell'infanzia disagiata inoltre ci poniamo come obiettivo quello di andare in supporto delle istituzioni nella trattazione di quelle che sono le principali problematiche sociali locali oltretutto daremo anche risposta proprio insieme anche a tutte le istituzioni a queste richieste per quanto riguarda la cerimonia di questa domenica avremo le principali autorità chivaniane nonché le principali autorità civili e come imprenditore ho cercato di costituire questo club affinché questo club fosse il più eterogeneo possibile per poter noi poi esercitare al meglio quelle che sono le nostre funzioni una battuta sul Kivanis International questa associazione che ha oltre 100 anni di storia e che soprattutto ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali noi ci ispiriamo agli alti valori kivaniani per quello che poi sarà il nostro agire Grazie Grazie